Buongiorno a tutti, allora io sto andando a fare colazione Niente, vi volevo aggiornare sulla tritinoina e la situazione è un po' catastrofica Nel senso che questa settimana forse l'ho messa solo due volte Perché sono presa dalle faccende, martedì prossimo mi arriva sta benedetta cucina E quindi stiamo facendo gli ultimi lavori del caso E' un casino, sono accampata come gli zingari e quindi poi quando arriva la sera Già bello se mi faccio la doccia e mi fico a letto perché sono abbastanza stanchina Adesso appena sarò riuscita a sistemare tutto, provvederò a rimetterla cinque volte al giorno Purtroppo in questo periodo sono un po' accampata E quindi la tritinoina è passata un po' in secondo piano Non è che non la metto proprio, quindi la mia pelle non si disabituerà completamente Però non riesco a metterla cinque volte a settimana Ma non perché non abbia il tempo, volendo il tempo lo trova che proprio mi dimentico Di conseguenza è così E adesso non vedo l'ora di sistemare tutta casa Così potrò riprendere la mia routine Della pulizia del viso, della tritinoina e quant'altro Purtroppo al momento sono un po' nelle canne Anzi, sono anche fortunata perché pensavo che la mia pelle sarebbe peggiorata di nuovo drasticamente Invece nonostante tutto, nonostante non riesca a metterla tutti i giorni Devo dire che non ho visto grossi peggioramenti Sarà che magari ti dà tempo un paio di mesi Comunque, questo era quanto Vado a bermi il caffè E vi auguro una buona giornata Ciao Ciao